buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ecco qua con una nuova serie in coop stavolta siamo su way out abbiamo un ospite come vedete da schermo chi è la rap chi è la rapadawan sì ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti anche perché siccome questo video andrà anche sul mio canale giusto quindi ciao a tutti benvenuti benvenuti a questa nuova serie che riporta anche me e leo a fare un un gioco in coop dopo tanto tempo dopo the division un anno esatto dopo un anno torniamo a giocare insieme sì e in questo caso l'ho trascinata io sì 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 è stato lui che me l'ha che me l'ha proposto sì 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 confermo e niente questo gioco beh io non lo conosco solo di aver sentito dire così poi la specifico la storia non la conosco no neanche io penso neanche io però so che la bella caratteristica di questo gioco è che chi ci segue chi ci guarda chi guarderà il video potrà vedere la prospettiva di gioco di entrambi quindi questa è una cosa molto molto carina secondo me con lo split screen sì esatto esatto e poi lui è il gioco leo è il gioco e io il pass perché lui è il gioco quindi basta un gioco solo giochiamo in due è vero sì per chi non lo sapesse si basta che uno abbia un gioco e poi l'amico può giocare esatto col pass conveniente conveniente esatto risparmio i dindini esatto anche perché il gioco poi costa 30 euro e giocarlo così no perché giocandolo in due io devo dire che è un buon prezzo secondo me sì 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 va bene ma avvio avviamo il gioco avviamo avviamo e Vinson, qual'è il tuo progetto dopo questo? Non lo so. Non ho pensato proprio a questo. Non ho pensato a questo? Questo deve essere il primo per te, misteri di pensare. C'è una differenza tra pensare cose e essere smart, Leo. Sto imponendo che non sono smart? Tu le parole, non le mie. Hey, potrei non essere smart in tuo libro, ma ho fatto che faccio. Non posso raccontare con questo. Ok, ah, dobbiamo selezionare il personaggio. Ah, ok. Ci vengono date le caratteristiche. Sì. Chi scegli tu? Eh, allora, non lo so. Vediamo, aspetta. Vincent Moretti, crimine, frode, operazione di indebito, omicidio. Condanna, deve scontrare 14 anni. Personalità razionale, disciplinato, riservato. Dopo essere laureato in economia, e aver sposato la sua fidanzata del liceo, vinse e ha trovato un impiego in banca. La promessa di soldi facili ha finito per rovinare la vita quando ha deciso di farsi coinvolgere dal mondo del crimine organizzato. E all'altro si chiama Leo. Sì, Leo come te. Certo, certo. Leo Garuso, crimine. Rapina, aggressioni e furto aggravato. Condanna, scontato sei mesi su otto anni. Personalità, sicuro, irrascibile e ironico. Storia, Leo è cresciuto in orfanotrofio ed è entrato nel mondo del crimine in giovane età. Quando cercò di rubare un famoso diamante andò tutto in malura. Ora deve uscire di prigione e rimettere le cose a posto per suo figlio, sua moglie e per se stesso. Io devo dire che tra i due, penso che tu sia quello più razionale, disciplinato e riservato. Trammette. Trammette. Anche se il nome non corrisponde però. Anche se il nome non corrisponde perché in effetti fosse stato vermente avrei fatto falleo. Però io sono molto più irrascibile e ironica. Beh, irrascibile non so. Ironica. Beh, se mi fanno incazzare mi arrabbio. Ti assicuro che mi arrabbio. Anch'io, eh. Vabbè. Vabbè, quindi lasciamo così. Io faccio Leo e tu fai Vincent Moretti. Va bene, va bene. Ok. Sono due italiani tra l'altro, no? Leo Garuso. Garuso. Sì, Vincent Moretti. Boh, forse origini italiane. Va bene. Va bene, allora io premo pronto, eh. Vadi, vadi, vadi. Ok. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ah, io sono sull'autobus, quindi sono appena arrivato in prigione, presumo. Ti vedo! Dov'è? Ti vedo! Guarda in alto a sinistra. Sì, sì, vedo, vedo. Vincent! Sì, vedo, vedo. Ah, senta, intanto che lei entra, io vorrei fare una cosa, non ho visto le impostazioni audio. Vabbè, io ho un to-e-i qua. Niente. Vuoi parlare con della gente, qui? Ma tu non senti quello che dicono a me, no? Io lo sento. Ah, lo senti? Ok. Ah, devo filmare. Parlo col tizio. Eh, ma non sei mica in vacanza, cioè, posso dire. Scusi, eh. Direi. Tiragli un cazzocco. Ma infatti io, guarda, gli venerei a questo. Dai, lo siamo. Qua. Poglietti. Beh, ma ci saremmo già lavati, no? Cioè, dobbiamo fare la doccia. Bando, ma... Copridi, ma io non lo so, ma cos'è? Ma cioè, posso dire? Ci lavano per bene, eh. Però c'era un po' di sapone. Ma no. Ma col tubo deve stare a lavare. Mio mio. Farà pure male. Ma nudi, cioè, ma io non so. Eh, sì. Grazie, eh. Tre ore hai visto sto coso. Oddio, che è? Sta amenando. Posso chiamare qualcuno? Bene, va bene. Ti vedo, ti vedo, eh. Sì, non dico. Sì, ah, sei lì in alto? Sì. Ah, eh. Ti seguo, ti seguo. Sì. Sì, me lo accoprite, cioè, posso dire. Ma cos'è? Adesso mi metto qualcosa, va? Ah, intanto parlo con questo. Buon uomo, dica. Ah, mi sa che sono io, no, vicino. Sì. Sì, no problem. Sai che mi ricorda anche un po' Grand Theft Auto? Saranno i doppiatori. Vabbè, con il linguaggio colorito. Eh. A me ricorda Prison Break. Sede TV. Ah, sì, sì. No, ci siamo vestiti. Eh, Leo. Cosa? Alguien vuole parlare con te. Sì? Chi? Non lo so, man. È là. È tutto che ho saputo. Trovo appunto di interesse vicini con LT. Ma sono forse io quello con cui... No, ha indicato... Che è quello? Il campo da pallacanestro. I punti di interesse... Allora, qui si può parlare, però, eh. Si può parlare con... Con la gente. Sì, ok? No. Non è ok. Sono così depresato. Non posso dormire, ti pensi? Especialmente se vuoi vivere in here. Sì. Tu dovresti fare qualcosa, che ti rende a te in solitari. Sì? E perché la mia cosa faccio? È bella e tranquillamente qui. Se non puoi dormire là, non puoi dormire da nulla. Cosa, tu? Mi ha perduto la mia mente in solitari. No pain, no gain, man. Eh, sì. E guarda un pollo di miei peccati. C'è anche se può riuscire. Guardate. Lecce, direcce, direcce, direcce. Hai ancora impressionato? Ah, gli attrezzi qua, Stimano Non ho interesse nel fare palestra Eh, non ho capito, non c'ha potuta una sigaretta A parte che io non fumo, però, voglio dire Questo poveraccio c'ha solo le sigarette Ma segna a te, eh? Sì, sì, sì Devo mica picchiarli per passare, forse Aspetta, arrivo Dove sei? De là Ti vedo, ma... E' un trappolone, trappolone, attenzione Ari, dai, è questo È quello di prima No, ma dai Maledetto Posso intervenire Eh, hey, hey, what the hell? Ti mettono in mezzo per te Ah, sì, li buttano in mezzo, sì Fifone, che te la stavi a dare? No Eh, no Ok Ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok Mamma mia Eh, guardi Abbiamo stesi tutti Eh, sì T'ho minacciato col naso Eh, hai visto? Eh, mi sa che non starò distante Eh, no Eh, hai visto, no Dica Mi facci passare Posso sedere? Ehi, c'è qualcuno che parla? No Non ho nessuno Io nemmeno Ma guarda questi Non vogliono far passare Aiutare ad ascoltare Usa la forza Se vengo anch'io Faccio i fatti tuoi Scusi Vedi? Quale buone maniere Grazie Gentilissimi Mi dia il mio vassoio, va? Oh, c'è ancora quello là Ma cos'è? Ma questo è veramente fissato Aspetta, aspetta Guarda, sono qua Eh Comodo Ma la guardia che stava lì Dov'è? E' E ora Non c'è un altro coltello Qualcosa Ma c'è una ceppa per difendere Si tranne le ventole Oh, c'è una ceppa per difendere Si tranne le ventole Oh, c'è una ceppa per difendere Oh, c'è una ceppa per difendere Si tranne le ventole No Ma è un pazzo curioso Cioè Ma cos'è? S*** I hate I hate I hate those things Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful It'll be alright Just lay down and rest for a while Yeah, yeah Thanks Hey, hey I'm Leo Vai fai dormi Oh, Vincent Man, the hook Vincent, thanks Don't mention it I mean it, man What's your beef with that guy anyway? Ah, let's just say it's a long story But don't worry about him He's out of picture now Could you do me favor? Like what? There's something I need What's that exactly? Nothing, man It's simple I just need you to watch my back While I get it That's all Sorry Not interested You know what? F*** it I'll do it myself Wait, wait, wait What? You can't just walk out of here Of course I can We're going to both end up in the hole Well, I don't have a choice All right, all right I'll help you Just don't get caught Okay Keep your eyes sharp Yeah Allora Io quindi devo andare a prendere Quell'oggetto che lui ha visto di là Recupera l'attrezzo Cacciavite Eh Però lì c'è l'infermiera Io me sa che devo fare tutto il giro di Peppe Intorno all'area Io devo parlare forse Non so Vediamo Ah, ecco Ok Chiamano l'infermiera Chiamala va Infermiera? Fatte fa una puntura Infermiera? Di cazionina Guardi che c'è il morto lì, eh C'è il morto Non da me Non venga da me Grazie Io intanto me do Eh, allora Le parla di qualcosa Aspetta, aspettaci Questo dell'acqua Ma non del rubinetto Signora Voglio quella della bottiglia Ah, se è troppo lusso Stai in galera Ti ricorda? Cioè Pure della bottiglia Aspetta Eh Ecco Come faccio di stare anche alla guardia? No Aspetta Ha detto che deve aspettare Che se ne va Ecco Sei basso però Sì, sì Adesso mi serve aiuto Non posso passare Ops Che sbadato Ma io non lo so Cioè Manco se si ammorì Ecco Ho rotto il bicchiere, eh Ecco Fai qualcosa con quella guardia Cioè se devi togliere Non posso passare Io vedi Eh Ma io non posso muovermi Eh Adesso l'infermiera è impegnata A pulire i cocci di vetro Aspetta Eh Non posso interagire con nulla Io non posso fare niente Devo solo passare Ma se passo mi vede questo Ma lui Vedi Ma tu non puoi alzarti In nessun modo No Non posso fare nulla Devo stare a letto Fra cicone Aiuta Leo Mi devi aiutare Mi devi aiutare Eh Sì Però ti ho aiutato Ti ho distato L'infermiera Guarda Guarda se questo si rialza Che si va a prendere Un'altra tazza Dei caffè Io me la devo fare Tutta all'indietro Oh Io non vedo nulla Con cui magari Di stare A chiamare qualcuno L'infermiera è al lavandino Io non posso neanche Uscire dal letto Sto premendo tasti a caso Se l'è chiaro Non è che magari Puoi comunque passare No Io posso anche provare Ma secondo me Mi vede Cioè è impossibile Che non mi vede Muovi la telecamera Un po' Vincent deve fare qualcosa Dovevi attivare La sequenza Ah Bussa Ecco Vai Ecco Scusi Scusi Ma questo c'è i nervi Proprio Adesso puoi passare Sì Vado Vado Profittane Vado Rubo l'attrezzo Arrivederci Grazie Manco questo Mi deve vedere Ma questo non è un Un detenuto Sia a vedere il sapone E' andato E' andato E' Ma signorina Guarda Sto morendo di fame Oh signorina Sì 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 Eh sì Ma non sa quanto sono E' una porzione minuscola Ecco fatto Tutto a posto D'amose Cioè A posto Non ho più fame Basta Vabbè E' un Sighetto Ah è una lima Una lima Che l'ha messa lì? Eh Perché evidentemente Col fatto che li perquisiscono L'avebbero trovata Ma ora come si recupera? Eh Poi perché l'ha Vabbè Vabbè Ha un piano in mente Ah sicuro So What's your plan? Excuse me? I know what you're up to I don't know what you're talking about Come on now Look I appreciate what you did back there But you need to back off Hey I can handle myself I can handle myself What about Harvey then? The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common We both want him dead We both want him dead You don't know shit about me, man Maybe not But Harvey killed someone very close to me With or without you I'm going after him But I'm pretty damn sure Our chances would be a lot better If we were together And you know that Dice niente No Ha parlato il naso Yeah Ha 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 Thank you Ha Ha I елов W Sì, è il mio progetto, e io ho deciso di quello che succederà. Hai fatto? Certo. Cosa che ti dice. Sto dicendo, ragazzi. Tu f*** questo, io ti uccolo. Sì, ho capito. Quindi qual è il tuo progetto? Voi sapere in breve. Grazie a tutti.